Stava lavorando su una pressa con un collega che lo aiutava sul fronte opposto del macchinario quando si è trovato impigliato nella fase di chiusura, rimanendo così schiacciato. Nicolas Nanut, 30 anni, originario di Monfalcone e residente a Cormons, stava svolgendo il turno di notte alla ditta APS Arosio di Mariano del Friuli, a pochi chilometri da Gorizia. L'azienda, che occupa una quarantina di dipendenti, è specializzata nel trattamento dell'alluminio in estrusione. All'1.30 la tragedia, immediata la chiamata di soccorso, ma i sanitari della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria, coadiuvati dai vigili del fuoco, non sono riusciti a rianimarlo. Colleghi e dirigenti rimangono ora chiusi nel dolore e nel silenzio. I carabinieri stanno ascoltando i compagni di lavoro ed anche l'azienda sanitaria è ancora sul posto per le verifiche sulla dinamica. Il sostituto procuratore di Gorizia, Giulia Ferri Fagioli, ha disposto il sequestro dell'area.